lì non si può stare di più ...neanche un chilometro del percorso. Dato che siete già in griglia, ormai da una mezz'ora abbondante, anche prima qualcuno, facciamo le cose come si vede, perché noi abbiamo delle abitudini da rispettare durante la nuova torre, che sono quelle di dare la sveglia al giorno. Uno, due, tre! ...direi che possiamo migliorare. E la tua fortuna? Mi raccomando, divertitevi e buona corsa a tutti. Ciao amici della Novecoli, un grandissimo bocalupo per domenica, spero che vi sfruttate tantissimo di una delle gare più belle che ho fatto io al mondo, comunque era da Spagna. Deseo che vada tutto perfetto e soprattutto complimenti al Novecoli per il chip anniversario.